Covid in area berica, tamponi positivi al 5,6%, in 24 ore 32 ricoverati e 10 morti. Nuova ordinanza del presidente Zaia, previsto il numero chiuso per tutti i negozi. Chiusi nel lockdown, i parrucchieri sono aperti ma lavorano poco, nessuna previsione per Natale. In aumento anche a Vicenza i nuovi poveri e questo l'effetto catastrofico della pandemia. Assalti al Bancomat per via informatica, i carabinieri arrestano la banda, due colpi nel Vicentino. TG Vicenza, buona serata e ben trovati. Il bollettino di Azienda Zero in apertura, dove si vede che continua a rallentare la curva dei nuovi contagi in Veneto nelle ultime 24 ore, sono stati 2.275 rispetto a una media di novembre di circa 3.000 al giorno. Sommando le persone negativizzate, il totale degli attualmente positivi si riduce di 605 unità, un piccolo segno meno che fa dunque sperare. Da ieri pomeriggio si sono registrate però anche 91 vittime, il totale 3.403 ancora in leggera crescita ai ricoveri, 2.801 di cui 326 in terapia intensiva. Vediamo anche il bollettino odierno del ULS 8 in area berica. Nell'ultime 24 ore, 3.654 tamponi eseguiti di cui 206 positivi, ovvero il 5,6% dei nuovi contagiati. Il 15,5% è stato ricoverato in ospedale, 32 persone, 1 in terapia intensiva, 10 i decessi, 135 i nuovi guariti. In tutti i negozi del Veneto arriva il numero chiuso o meglio un numero massimo di clienti, come già è previsto nelle chiese e finché erano aperti nei teatri, nei cinema e negli stadi. E questa è la principale novità dell'ordinanza regionale presentata oggi da Luca Zaia. Quindi la nostra filosofia è mantenere aperto in sicurezza. E' questa la sintesi migliore della principale novità inserita nell'ordinanza regionale che sarà in vigore fino al 4 dicembre. In tutti i negozi vengono applicati degli indici di massima compresenza. Fino a 40 metri quadri di superficie di vendita può stare una sola persona, fino ai 250 una ogni 20 metri quadri, sopra i 250 una persona ogni 30 metri quadri. Nei ristoranti sono vietati buffet e i menù devono essere digitali oppure usa e getta. Per il resto le norme sono invariate rispetto al testo precedente. Attività sportiva all'aperto e passeggiate con obbligo di distanziamento e di vieto di assembramento. Negozi chiusi la domenica, centri commerciali nel weekend esclusi, alimentari, edicole e farmacie. Qualche ritocco potrebbe avvenire nei prossimi giorni. Penso che non ci sia un sindaco che va a far chiudere i negozi, ma ci sarà sicuramente la volontà di far capire in maniera collaborativa che se hai troppa gente dentro devi farne uscire. Per l'effettuazione dei tamponi ai medici di base si aggiungono ora i pediatri di libera scelta. Il medico di base, il pediatra di libera scelta di base, diventa figura centrale in questa partita del Covid. Perché non fa solo il tampone rispetto a questo, ma è anche autorizzato con l'ordinanza a fare ovviamente la prescrizione della quarantena, che è valida ai fini IMS. L'effetto Covid si vede anche sulle attività che rimangono aperte, come i parrucchieri. Affari però a rilento, troppa incertezza e per Natale nessuna previsione. I parrucchieri chiusi in pieno lockdown sono stati tra le ultime categorie a riaprire. Un'estate a rilento per poi vedere una timida ripresa a settembre ed ora. Nonostante il Veneto sia in fascia gialla, gli affari, almeno in centro a Vicenza, continuano a risentire dell'effetto chiusura e delle attività economiche. Purtroppo il lavoro è diventato al 50%, anche perché ci sono gli ostacoli delle transene che c'è per entrare in centro, la gente non ha ben capito che può comunque venire nelle attività. Si lavora a alti e bassi, c'è confusione nel lavoro come nella mente delle persone, c'è anche molta paura. Gli affari sono ripresi? Sì, erano ripresi verso settembre, dall'apertura di maggio verso settembre e poi con la seconda ondata sono riscesi. Alle sei chiudono i bar e si svuota il centro, diventa proprio il coprifluoco. Quindi anche lei che è aperto di fatto. Posso dire che alle sei posso chiudere anch'io perché alla fine la gente gira sempre attorno a tutto quello della massa. Quando dicevano, beh, ma i parrucchieri, anche se facciamo zona arancione o rossa, possono rimanere aperti, non serve a nulla. Cioè sei aperto, hai le spese, ma lavori poco. Se ci si sposta un po' fuori dal centro della città le cose sembrano andare un po' meglio, anche se quanto perso è difficile da recuperare. Siete riusciti un po' a recuperare? No, recuperare non si parla di recuperare, assolutamente. Aspettative per Natale? Difficile fare previsioni. Fino a che ci sono queste chiusure purtroppo non si possono fare delle previsioni. È impossibile. Sono tutte le previsioni che si potevano fare negli anni scorsi, saltate tutte. Covid non vuol dire solo malattia, ricoveri in ospedale, ma ci sono anche ricadute sociali. Anche a Vicenza, ad esempio, aumentano i nuovi poveri. La mia vita è cambiata parecchio perché purtroppo pensavo di essere sicuro nell'azienda in cui lavoravo e di conseguenza purtroppo invece a causa del Covid, niente, mi tocca ricominciare per l'ennesima volta e speriamo bene. Effetto Covid, perché non c'è solo la malattia, il racconto di un giovane nel video della Caritas di Vicenza. La perdita del lavoro causa crisi innescata dalla pandemia, la difficoltà di pagare le bollette, l'affitto a fine mese, la mancanza di denaro sufficiente per fare la spesa. Sono i nuovi poveri quelli che il Covid ha lasciato a terra. Persone che avevano un reddito grazie ai lavori anche a volte un po' precari, autonomi, liberi nel senso brevi, ma che andavano a fornire un servizio a tante persone diverse, che un attimo si sono trovati senza richieste di attività o anche con impedimenti a poterle svolgere come al suo solito. Oggi stiamo registrando purtroppo un aumento di richieste di aiuto, di integrazione anche al reddito, ma per reddito parliamo del minimo vitale, quindi intorno ai 700 euro. All'inizio sono venuto a Caritas allo sportello di sostegno psicologico, era un momento di buio e non sapevo come fare per uscire. La cosa più delicata è che le famiglie, le famiglie anche che hanno minori, sono aumentate in modo importante, perché se pensiamo che prima del Covid la città di Vicenza dava un aiuto a famiglie circa al 9% della popolazione minore, oggi siamo quasi al 25%. In loro aiuto i servizi sociali del comune, sostegno al reddito, all'affitto, mentre Caritas ha aperto un fondo dove oltre all'aiuto immediato si guarda il futuro per un percorso di rientro nella società. Chi ha perso il lavoro, ammetterlo all'interno della famiglia e con il proprio vicinato, diventa veramente un dramma. Siamo alla cronaca, i carabinieri hanno sgominato un'organizzazione criminale dedita ad assalti informatici a Bancomat e Postamat. Due colpi erano stati messi a segno anche nel Vicentino. È passata anche nel Vicentino a Grisignano di Zocco e Villaverla, oltre che nel Veneziano e nel Padovano, la banda degli assalti al Bancomat arrestata dai carabinieri di Monza. Il 21 ottobre il blitz alla filiale della tedesca Volksbank di Villaverla, la notte dopo alla filiale dell'Unicredit di Grisignano. La banda agiva attraverso dei veri e propri attacchi informatici ai danni di sportelli Bancomat consistenti nell'accreditarsi come amministratore di sistema. Il tutto dopo aver avuto accesso mediante effrazione del pannello della luce di cortesia per i Postamat o con la creazione di un foro a fianco alla tastiera degli ATM. I malviventi si collegavano via computer e con un router hackerando da remoto i sistemi operativi lanciavano il comando di erogazione delle banconote. 6 soggetti arrestati tutti stranieri su 12, 35 i colpi contestati in 7 mesi per un bottino complessivo di 800 mila euro. Andiamo a Schio dove i cittadini hanno trovato una panchina vandalizzata nel parco inclusivo. È scattata subito una segnalazione alla polizia locale che ha trovato i responsabili. Schio, a Magre qualcuno ha danneggiato una panchina del parco inclusivo. Grazie alla tempestività di un cittadino che ha segnalato immediatamente il problema alla polizia locale, gli agenti sono riusciti a salvare immediatamente le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Gli occhi elettronici hanno visto tutto. Vengono inquadrati otto ragazzini minorenni probabilmente del posto che in gruppo alle 20.50 di sabato 21 novembre si sono ritrovati. Quattro di loro a un certo punto vengono ripresi mentre spianano letteralmente la panchina per sdraiarci si sopra. Avranno trovato una posizione comoda? Beh, forse. Sicuramente ora la loro posizione è diventata scomodissima visto che gli investigatori li stanno identificando grazie ai motorini con cui i giovanissimi hanno raggiunto il parco. Adesso gli interessati e i loro genitori sono invitati a presentarsi al comando di polizia locale per dare spiegazioni. Torniamo a parlare della superstrada pedemontana Veneta. Da qualche giorno è aperto il tratto fino a Bassano Ovest. Da Malo è scesa in campo l'unione dei consumatori. Grazie alla nuova tratta della superstrada pedemontana con l'apertura del casello di Bassano Ovest si può raggiungere Vicenza, lo svincolo della 31, la 4 in maniera molto più veloce e agevole come pure Breganze, Malo, dove i tempi di percorrenza si sono accorciati notevolmente. Eppure qualcosa nel sogno idilliaco della riduzione delle distanze non quadra e sono i pedaggi con quote piuttosto alte rispetto a quanto prospettato ad inizio lavori. L'unione consumatori scende in campo dopo essere stata letteralmente presa d'assalto con le proteste dei pendolari del Bassanese che si vedono un po' stretti a pagare un pedaggio di 6 euro per esempio per arrivare a Vicenza Ovest, altri 6 per tornare ogni giorno. I veri pendolari hanno cominciato a fare i conteggi per vedere se effettivamente c'è una convenienza a utilizzare la nuova autostrada che è una bellissima opera, è comodissima, io l'ho provata già sabato, si arriva velocissimi allo svincolo con la 31 ma il problema è il costo. La richiesta al presidente Zaia per istituire un tavolo di discussione. Per vedere e valutare insieme se è possibile varare magari degli abbonamenti per i locali visto che gli utenti dei comuni interessati non hanno più i famosi benefici che erano stati promessi all'inizio, ovvero la famosa libero accesso all'autostrada per i primi 30 chilometri. La proposta che io ho mandato al presidente Zaia è che è meglio incassare poco ma sempre piuttosto che non incassare per niente. Andiamo ad Altavilla Vicentina dove il consiglio comunale si regge ora su un fragile equilibrio perché una parte dei consiglieri di maggioranza è passato alla minoranza. Buffera in consiglio comunale ad Altavilla. Al momento dell'approvazione di una variante urbanistica al piano degli interventi il sindaco dopo essersi allontanato con alcuni consiglieri nella fase di discussione delle osservazioni ha preso parte invece alla votazione finale determinando l'approvazione dell'importante atto amministrativo. Un comportamento illegale secondo il parere di alcuni consiglieri della stessa maggioranza ora di fatto spaccata. Per quanto concerne il sindaco abbiamo la trasformazione di un terreno di cui il sindaco è in comproprietà da agricolo ad edificabile. Un terreno particolarmente consistente, più di 2.000 ottometri quadri che si trasferiranno in quasi 10.000 metri cubi di nuova edificazione ed è un tipo di intervento che ripeto, più che legittimo da un punto di vista soggettivo ma ricoprendo il comproprietario, quale appunto il sindaco, un ruolo amministrativo si pone in contrasto con una disposizione di legge. Assieme ai colleghi di minoranza i consiglieri avrebbero presentato un esposto sull'accaduto alla procura della Repubblica. Quindi noi chiediamo alle autorità competenti di verificare se in fase di approvazione della diciottesima variante al piano degli interventi è stata o meno rispettata la legge in materia. In particolare segnaliamo col nostro esposto che alcuni consiglieri hanno partecipato alla votazione finale pur avendo quello che per la legge viene definito un conflitto di interesse. I cittadini stiano tranquilli, questo esposto è senz'altro un atto di ignoranza perché chi lo fa dice io non so se questo è un reato, cara magistratura indaga tu e vedi se c'è un reato o meno. Quindi non è neanche detto che sia un reato e quindi io penso che anche la comunicazione di un'ipotesi così, a parte che non ho avuto nessuna notifica, quindi non so neanche se esista effettivamente questo esposto, allora questo esposto non è altro che una richiesta di questo tipo e quindi sarà la magistratura a rispondere. Non ho alcun timore al riguardo. Torniamo nel capoluogo, Vicenza sempre più green è il filo che accomuna i nuovi interventi sulle infrastrutture dell'amministrazione comunale, adesso è la volta di Viale San Lazzaro. La porta ovest adesso non sarà più un lungo viale dove il colore è con l'auto ma sarà un viale alberato che cambierà completamente l'accesso alla città. Proseguono gli interventi stradali su Viale San Lazzaro. Dopo la realizzazione della lunga aiuola nella mezzeria tra le carreggiate si passerà alla piantumazione delle essenze vegetali. L'intero tratto verrà suddiviso in 14 micro aree, tutte distinte e diverse tra loro per tipologie, cromie ed illuminazione. Tre grandi alberi verranno inoltre posti alle estremità e al centro del viale. Particolare cura è stata posta nella selezione delle piante. Tutta questa scelta è stata fatta guardando bene tutte le caratteristiche scegliendo attentamente quelle che sono le essenze in modo da permettere una crescita costante, continua e uniforme di tutto l'impianto che andremo a fare. È uno sforzo molto importante che faremo perché è un importo di 100.000 euro per 800 metri di strada. Però cambiare completamente la faccia è uno dei principali ingressi della città portandolo ad essere molto più green. Un tratto stradale molto trafficato era la volontà assoluta che avevamo e portiamo a termine anche questa operazione. A Sport in Casa nella puntata di questa sera Alex e Iuliano ospita Giuseppe Ruzza presidente della Lega Nazionale Dilettanti Veneto per parlare in anteprima delle novità degli scenari dei campionati di calcio dilettantistici. Ospiti di Focus in serata con il nostro direttore sono Alberto De Franceschi Mario Fabris, Roberto Marcato, Laura Puppato, Alberto Ruggine e Alberto Villanova. È tutto per questa edizione di TG Vicenza. Vi lascio al meteo e buona serata. Venetalab Breganze si eseguono tutti i giorni da lunedì al sabato, dalle 7 alle 11, tamponi molecolari e rapidi anche in modalità drive-in. Ben trovati al meteo. È ancora l'alta pressione a comandare il tempo sul nostro territorio. Mercoledì 25 novembre sarà una giornata stabile. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto condizioni di bel tempo su tutta la nostra regione. La grafica infatti ci mostra un ampio soleggiamento su tutti i settori e il cielo si presenterà sereno o al massimo velato. Non sono attese precipitazioni. Temperature minime tra meno 1 e 3 gradi. Massime invece tra gli 8 e gli 11 gradi all'incirca. Vediamo ora la previsione per Vicenza. In città ma anche in provincia non cambia lo scenario. Ci attende una giornata caratterizzata dalla presenza del sole. Il cielo sarà sereno e sgombro da nubi. E anche qui non sono previste piogge. Infine le temperature si manterranno sostanzialmente stazionari. Dal Meteo per ora è tutto. Vi auguro un buon proseguimento con Rete Veneta.